Una faida per assicurarsi il controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti tra gruppi contrapposti nel rione 167 ad Eboli. Per il capo della procura presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, è questo il movente alla base dell'omicidio di Mario Solimeno, ferito con dei colpi di pistola lo scorso 29 settembre e deceduto un mese dopo all'ospedale Colli di Napoli, proprio in seguito alle gravi ferite riportate. Alle prime luci di questa mattina, al termine dell'inchiesta coordinata dalla procura di Salerno e fatta salva la presunzione di innocenza, i carabinieri del nucleo investigativo di Salerno e quelli della compagnia di Eboli hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti dei fratelli Celso, che con diverse responsabilità sono indagati per l'omicidio ma anche per furto nell'abitazione della sorella di Mario Solimeno Maria. Giuseppe, che finisce in carcere, è accusato dell'omicidio ma anche di aver tentato un furto in casa della donna e del compagno Daniele Marotta. Gli altri due, Felice e Gaetano, sono invece accusati di tentativo di furto, possesso illegale di armi. Anche se le circostanze restano ancora da chiarire, Mario Solimeno si trovava in automobile con il fratello quando alcuni sconosciuti, che lo hanno ritenuto interessato a penetrare probabilmente nel traffico di sostanze di droga all'interno del quartiere 167, un complesso residenziale popolare nella cittadina di Eboli, si sono avvicinati alla sua vettura e hanno esploso dei colpi di pistola, ferendolo al collo. Le sue condizioni erano apparse subito gravi.